Eccoci qui cari amici di Unibet, ci ritroviamo a parlare di Inter, l'Inter tornerà in campo, partiamo dal pronostico del buon Diego Batantuono, secondo il quale curiosamente l'Inter dovrebbe vincere anche a Bologna. Dall'inizio della stagione il buon Diego ha dato solo vittorie all'Inter, che in questo momento dovrebbe avere dai 110 ai 122 punti in classifica. Purtroppo non è così, però devo dire che ultimamente Diego ci prende molto spesso, quindi speriamo in questo successo dell'Inter sul calpo degli emiliani, una partita che non è veramente facile, perché il Bologna arriva da tre partite, una peggio dell'altra, le prime due disastrose, la terza un pochino rubacchiata nel finale per quel rigore che non c'era, che probabilmente avrebbe consegnato al Bologna quantomeno un punto, di conseguenza sarà una partita molto delicata, Pioli lo sa, ha parlato in conferenza, è stato molto chiaro, bisogna riuscire a vincere non solo questa partita, ma tutte le partite, possibilmente da qui alla fine, per riuscire a prendere questo terzo posto. Formazione ancora minimamente rimaneggiata per quanto riguarda l'Inter, con Togbia è squalificato, al suo posto dovrebbero giocare a centrocampo nella linea A2, Gagnardini e Joao Mario, confermato davanti Palazzo al posto di Icardi, a proposito buon compleanno Maurito, domenica 24 anni, a sinistra rientra Perisic, a fianco a Perisic e Derra, centrocampo A4 diciamo appunto con Joao Mario, Gagnardini, Candreva e D'Ambrosio, speriamo in tre punti all'ora del pranzo, 12.30 che sia una buona domenica e un buon pranzo per tutti quanti.